Adesso le domande che abbiamo, una riguarda il discorso, abbiamo ricevuto una domanda da un collega che entra nel filone autenticazione, cioè si chiede che ruolo possono avere le tecnologie blockchain nell'ambito della cyber security. Se le state studiando, se le state verificando, la questione sul quantum computing che hai appena menzionato taglia abbastanza un po' la testa al toro su questo, ma ci vuole tempo per il quantum, quindi magari nel frattempo blockchain ci aiuta. Non so chi vuole intervenire se hai da dire qualcosa. Sì, magari possiamo complementarci con delle risposte. Di fatto noi come RSE sicuramente abbiamo in atto diverse attività e monitoriamo, come dire, sia partecipiamo sia su scala nazionale, istituzionale, che nei vari gruppi di lavoro a cui partecipiamo, sulle attività per capire sostanzialmente le applicabilità e diversi tipi di applicazioni che possono beneficiare della tecnologia blockchain in ambito energia. Quindi quello che posso dire è che quello che ho visto, almeno per esempio anche in ambito SIGRE o comunque in altre realtà, tutti gli aspetti legati alle transazioni di tipo economico, che quindi sono quelle che i nuovi mercati in realtà chiedono, perché appunto gli interlocutori diventano molti e quindi la possibilità di vendere energia da parte dei prosumer e di partecipare anche le comunità energetiche sono un altro di fatto degli sviluppi emergenti e abbastanza caldi. Hanno bisogno di effettuare transazioni energetiche in modo sicuro e senza la necessità di avere delle infrastrutture dedicate che centralmente gestiscono i flussi informativi, come avviene normalmente nel mercato dell'energia oggi, tra attori limitati e ben identificati. Quindi questa è sicuramente una delle applicazioni che beneficerebbe di più anche in ambito veicoli elettrici. Noi avevamo, per quanto riguarda appunto l'accountability, cioè diciamo la fatturazione dei costi delle ricariche, avevamo fatto una piccola sperimentazione anche qui in RSI. Quindi in realtà appunto sono tutte declinazioni diverse di aspetti di accountability. Ma non è solo questa, di fatto comunque anche per quanto riguarda la sicurezza delle comunicazioni, utilizzando appunto un'architettura distribuita, diciamo detta ledger, distributed ledger come la blockchain, è sicuramente sfidante. Sfidante perché offre delle libertà maggiori e quindi anche una scalabilità molto elevata. Ci sono tanti problemi implementativi, vorrei dire, nel senso cito soltanto appunto i carico elettrico e quindi i consumi elettrici associati, la gestione dei data miner e quindi dell'architettura blockchain, chi la gestisce, chi è. Quindi anche vedo per esempio nell'ambito della pubblica amministrazione si sta studiando molto la possibilità di utilizzarla anche per tenere traccia di tutte quelle che possono essere appunto delle informazioni appunto che in modo sicuro e certo rimangono disponibili a tutti. Ecco, quindi con un'apertura sulla tracciabilità delle informazioni che la blockchain garantisce. Quindi questo per dire che insomma è una tecnologia nuova, sicuramente offre delle, per noi che ci occupiamo di ricerca delle opportunità sfidanti sulla concretezza dell'applicabilità nell'ambito degli operatori ci sono secondo me anche delle opinioni abbastanza contrastanti e quindi ho visto anche in ambito Euroelectric per esempio comunque in ambito di comitati europei posizioni non sempre a favore e quindi perché chiaramente è disruptive come si dice e quindi toglie per esempio esposta le responsabilità delle infrastrutture dagli operatori verso terze parti o comunque verso altri attori del sistema complessivo. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Sì, no, io volevo solo aggiungere che, vabbè, informare che in RSE appunto stiamo sviluppando dei proof of concept relativi a diversi casi d'uso relativi a energy con tecnologia e blockchain. Quindi stiamo analizzando, quindi blockchain permissionless, permissioned, quali sono i pro e i contro, qual è l'applicabilità. Quindi se siete interessati, nel senso possiamo appunto approfondire, perché proprio internamente stiamo appunto sviluppando diverse applicazioni. Anche noi abbiamo delle ricerche, abbiamo una piccola setup, però sempre come si diceva, gestione di microleti, adesso lo stiamo utilizzando anche appunto, togli l'autorità centrale, quindi riesci e di fatto vai verso la sicurezza perché elimini un punto d'attacco. Quindi anche per la gestione di algoritmi di consenso, quindi consensus based, per vedere che non ci siano appunto intrusioni, che poi gli algoritmi di consenso ormai sembrano il modo di gestire microleti e quindi gestione di piccole aree con transazioni peer-to-peer. Siamo su questa, anche noi stiamo facendo delle attività di questo tipo, abbiamo provato anche con, abbiamo una piattaforma con hardware in the loop e diciamo la parte hardware sono dei contattori di nuova generazione che hanno degli smart contract, quindi lavorano direttamente implementando su una piattaforma Ethereum, quella che è una di quelle più disponibili. Poi sull'applicabilità su larga scala, d'accordo con te che ancora, è ben lungo da vedere se serviranno davvero e in che modo. Però insomma, come giochino di ricerca ci si diverte anche per vedere se funziona. Certo. Non so se ci sono altri interventi sul punto, altrimenti passerei alla domanda. Ci sono due domande in realtà che vengono dalla stessa persona. Uno riguarda, è molto precisa, molto puntuale, il report Kaspersky 2019 sulla cyber security. Ti sembra che le vulnerabilità principali negli ICS siano legate a engineering software, mentre qualche anno prima il posto era occupato da SCADA e GMI. Quindi, chiede il collega, è corretto pensare che con la digitalizzazione ci sia stato finalmente un rinnovamento dell'hardware, ma si continui a usare software vecchio e vulnerabile? In caso affermativo, come si può spiegare questo rinnovamento a metà e quali soluzioni suggeriscono i relatori? Allora, io posso dire che nell'ambito energy non si può pensare di sostituire tutto per mettere in sicurezza secondo le nuove misure di sicurezza emergenti. Quindi, chiaramente i costi associati a una sostituzione complessiva in ambito SCADA, per esempio, degli apparati, è impensabile in tempo zero. Quindi bisogna sicuramente lavorare in un'ottica evolutiva, quindi con una security by design abbiamo detto che per il futuro mette le applicazioni in sicurezza, ma sull'hardware resistente bisogna operare con sistemi, come si dice, di retrofit. Quindi anche la cyber security segue, ci sono una serie di appliance che sono anche commerciali, quindi comunque sempre più evoluti, che mirano a, come dire, introdurre la sicurezza in reti non sicure, per esempio, quindi dove tutti questi meccanismi di autenticazione di cifratura di cui abbiamo parlato, vengono inseriti attraverso un componente aggiuntivo in rete che è preposto a fare sicurezza. Quindi, ecco, ci sono questi tipi di soluzioni che in qualche modo vanno a sostituirsi a quelle by design che sono sicuramente preferibili, ma non sempre operabili. Grazie. E poi c'è l'ultima domanda tra quelle che ho ricevuto, no, in realtà c'è un'altra, ma questa però mi sembra molto centrata su Todeschini, perché quali strategie si possono adottare per forzare l'utilizzo di comunicazione con TLS in ambito industriale? E poi mi chiede sempre, ci sono produttori di strumentazione industriale che già usano comunicazione TLS? Allora, riguardo al forzare l'utilizzo di TLS, ma io non vedo soluzioni tecnologiche che lo possono fare. L'unico modo in cui io posso vedere il forzare l'utilizzo di TLS può essere quella di un approccio normativo, perché diciamo che in pratica sarebbe di fatto possibile pensare a dei filtri sulla rete che permettano solo le comunicazioni TLS, però diciamo che come tutti i filtri poi magari si può anche trovare un modo per aggirarli, per cui diciamo che secondo me l'unico vero approccio è quello di applicare, diciamo di normare l'utilizzo e direi che potrebbe essere la soluzione che effettivamente forzerebbe e diffonderebbe di più l'utilizzo di TLS. Con riguardo a produttori, diciamo che noi siamo all'interno di contatti normativi dove l'utilizzo di TLS sicuramente sembra essere il prossimo passo sostanzialmente, per cui già diversi produttori stanno lavorando su questo e direi che tra le soluzioni di sicurezza a livelli di alto dello stack protocollare mi sembra quella che probabilmente avrà un'applicazione più immediata e anche diciamo che anche quando eventualmente anzi sicuramente sarà applicata sicurezza a livello superiori, quindi a livello applicativo comunque continuerà a rimanere perché comunque è una soluzione sicuramente consolidata e diciamo che sicuramente non verrà poi, non lascerà poi il posto dall'alto, cioè magari in futuro sì, però comunque diciamo che comunque durerà nel tempo probabilmente molto a lungo. Per cui sì, comunque ci sono produttori anche molto presto, si sta lavorando anche sull'aspetto di conformance testing dei dispositivi per cui diciamo che sulle modalità con cui si può verificare che l'aspetto TLS sia applicato anche importante su queste proprio attuali, diciamo, per cui già parti dello standard definiscono questo aspetto e sono già parti dello standard pubblicato, diciamo. Sì, diciamo che in conclusione non è proprio una domanda, però comunque sono delle considerazioni che forse ci spingono poi ci consentono di chiudere anche la riunione. Il collega vorrebbe una valutazione da parte dei relatori circa il fatto che l'aumento della complessità del sistema elettrico introdotto dai paradigma smart grid confligge con uno dei cardini della cyber security, ovvero la riduzione della superficie di attacco. Stiamo andando verso un'espansione significativa delle vulnerabilità esistenti, da quelle presenti nei tradizionali scale MSGMS, tutti basati su kernel monolitici con milioni di linee di codice vulnerabili, a una moltitudine di sistemi interconnessi gestiti da soggetti con una cultura della sicurezza non paragonabile a quella propria di un TSO-DSO. Tutto questo in un contesto in cui le infrastrutture critiche sono obiettivo non di hacker solitari, ma di organizzazioni strutturate, state actors con budget multimilionari. Queste sono le considerazioni del collega, non so se volete commentare e aggiungere se siete in disaccordo o se siete in, anche io temo che siano delle considerazioni anche corrette, ma è il mondo che dobbiamo affrontare. Sì, è condivisibile, insomma, in qualche modo dalla digitalizzazione siamo stati travolti tutti, adesso facciamo smart working e ci ne rendiamo conto. Direi che la transizione energetica comunque ha bisogno dei dati e quindi altrimenti quei target non li raggiungiamo. Allora, è chiaro che la tecnologia evolve in parallelo all'energia, quindi, come dire, vorrebbe sfruttare il meglio della tecnologia. La cyber security, anche lei, deve evolvere insieme alle tecnologie digitali per garantire i requisiti che in qualche modo saranno richiesti dalla regolamentazione. Quindi io, come dire, vedo uno sviluppo che è da una parte necessario e anche, se vogliamo, utile per la società. Quindi non dobbiamo viverla come una cosa di cui siamo succubi perché i sistemi sono stati aperti verso le reti più vulnerabili. No, il mondo sta evolvendo e noi dobbiamo garantire che evolva in una direzione positiva. questo è il nostro lavoro e quindi la cyber security fa questo. Io non ho altre domande, quindi direi che potremo anche, per quello che mi riguarda, concludere qua questo webinar che è stato veramente di altissimo livello e di grande interesse. Sono contento di averlo potuto moderare, ma soprattutto di averlo potuto ascoltare, perché mi è piaciuto molto e veramente molto interessante. immagino che Carla Sanna, come rappresentante di Sardegna Ricerca, voglia anche lei intervenire, portare i saluti di Sardegna Ricerca, ringraziamenti ai relatori. Per parte mia mi sembra che sia andato tutto bene, siamo andati un po' più lunghi nel tempo, ma le tematiche erano tali per cui comprimerle era sicuramente più un danno che un bene. il webinar è stato registrato, le presentazioni saranno poi rese disponibili dopo un po' di elaborazioni di back office da parte di Sardegna Ricerca, ma sarà tutto poi reso disponibile e pubblico. Carla, ti lascio la parola per i saluti finali, ovviamente da parte mia, grazie per avermi dato questa opportunità e grazie per aver organizzato questo webinar. Grazie Fabrizio, quindi io ringrazio tutti quanti, in primis tutti i partecipanti che si sono rimasti con noi fino a quest'ora, nonostante il ritardo, però appunto questa dimostrazione del fatto che evidentemente è risultato interessante, quindi ancora di più ringrazio tutti i relatori per essersi resi disponibili a questa giornata, quindi grazie a Luciano Martini, Giovanna Dondos, la Roberta Terruccia, Marco Sudeschini e grazie ovviamente a Fabrizio Pilo per aver moderato e per il suo prezioso contributo. Mi dispiace per i quesiti che non hanno ricevuto risposta, ma veramente siamo fuori, fuori, fuori tempo, quindi chiedo scusa a tutti e grazie veramente a tutti quanti per la partecipazione e ringrazio anche i miei colleghi Petra Perreca e Raimondo Ena per il supporto nell'organizzazione del seminario. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, ciao. Grazie a tutti.